Ciao Gio, io sono il salutatore. Ah, sì, ti conosco. Allora salutiamo. Ecco, bravo. Saluto il salutatore e con il salutatore salutiamo tutti gli altri salutatori. No, sono solo io il salutatore. Aspetta, un saluto a tutti i tuoi fan e dei fatti vostri, ovviamente. Certo, un saluto, un abbraccio da Gio di te. E ho una sorpresa per te perché te la meriti da tanto che te la voglio dare. La manina del salutatore e un saluto speciale, sai, a chi? Cioè, una fan particolare, mia madre, mi dice sempre Gio di te, dice... Ma sono importanti. Esatto, dice, vi assomigliate, ma non ci assomigliamo, non ci stiamo niente, ti avevo l'occhi chiari. Però, ecco, Margherita, mamma Margherita. Margherita, ciao, io non posso stare fermo con le manine nelle manine. Grande, che hai cantato e ti abbiamo visto a Sanremo, grande. Ciao, ciao.